questo è malissimo diventa sempre peggio è un po' vicino però se non hai paura partita la da fianco al sasso e fai la curva e vieni su ho voluto mollare perché sono fino farò su ho mollato io non devi aver paura e soltanto c'è una persona lì mi sono fidato di più non ho visto nessuno ho avuto quell'attimo di eh? eh la continuavi arrivai su diretto parca troia quella gamba lì madonna perché c'è una stampella cazzo se no passi giù di là eh si no passi giù di là mi è un po' si no passi giù di là Grazie a tutti.